L'Europa, e guardate non ve lo dico per far casino, però se l'Europa è la madre di tutti, se dimenticate di qualche suo figlio, noi non possiamo pensare di tornare alla riapertura delle imprese sapendo che c'è un paese europeo che stanzia 550 miliardi, c'è il paese che è un mondo che ha stanziato più soldi ad abitante perché gli Stati Uniti hanno stanziato 1.100 miliardi, se li rapportassimo agli abitanti della Germania gli Stati Uniti dovevano stanziarne 1.500 miliardi, se fra l'altro sono anche dollari e quindi dovremmo passare molti di più. Allora dico, voi capite che quando si apriranno di nuovo i mercati e le attività, l'Europa deve garantire che tutti siano le greglie di partenza in quella misura con le stesse potenzialità, perché inutile che ci siano fatti le segre mentali per anni sentendoci dire le droga che bisogna evitare gli aiuti di Stato, bisogna stare attenti ai trust e tutte queste robe e poi ci ritroviamo, riusciamo dall'emergenza sanitaria e ci ritroviamo le nostre aziende tiroccate e distrutte che dovrebbero andare sul mercato e quelle tedesche che sono tenute in vita alla grande con un investimento come questo. Qualcuno potrebbe dire che sono soldi dei tedeschi? Sì, ma siamo in Europa. E ripeto, noi dei grandi messaggi dei leader europei che dicono Italia, forza, avanti, ce la farete, vogliamo vedervi come prima, non ce ne facciamo nulla. Bene, è un atto di cortesia, giriamo pagina, vogliamo vedere i soldi. L'Europa è latitante e sta legittimando una vendita di posizione che avrà la Germania che sarà paurosa. Io non ce l'hovo la Germania, ce l'hovo il fatto che non è impensabile pensare di lasciare e dar per persa in realtà come l'Italia, la Spagna, piuttosto anche la Francia perché ancora non si è ben capito cosa faranno. Stiamo veramente assistendo a un attesione europeo che è inconcepibile e insostenibile.